Ciao a tutti! Per prima cosa mi raccomando, rimanete sintonizzati anche su Goal perché abbiamo fatto delle interviste, provengo da una trasferta di lavoro freschissima, noi abbiamo fatto delle cose, avete visto anche ciò che stiamo pubblicando con Claudio Marchigio, sempre molto gentile, disponibile, davvero un mostro sacro poi anche in termini di conoscenza e di ricordi del mondo Juve, non potrebbe essere altrimenti, considerando come si parli di uno dei calciatori più rapidi, rappresentativi della storia moderna, Juventina, e non solo. Allora, conferenza stampa di Max Allegri in vista di Lazio Juve, mi sembra che le dichiarazioni poi siano abbastanza da 0 a 0, cioè indicazioni di formazione, non è che ci dobbiamo aspettare qualcosa di innovativo, si andrà avanti con la continuità, che purtroppo poi nelle ultime otto gare non ha portato i frutti sperati, anzi sta proponendo un rendimento disastroso, con un unico successo ottenuto tra l'altro al photo finish con il Frosinone, però in qualche modo bisogna cercare di andare avanti per il rush finale e soprattutto per centrare il prima possibile aritmeticamente l'obiettivo Champions. Partirà dall'inizio Moise Ken, e non potrebbe essere altrimenti perché le altre due prime punte sono assenti, Milik ancora out e Vlaovic squalificato, e ovviamente a supportarlo ci sarà Federico Chiesa. Una sola alternativa in panchina per quanto riguarda l'attacco, il Ditz più Sekulov che sta facendo molto bene, ma quando è tornato in ex-gen e ne abbiamo parlato diffusamente questa mattina. Quale può essere l'altro balottaggio? Cosi-Chilling, poi gli altri mi sembrano pressoché obbligati, quindi a destra Cambiaso con McKennie, Locatelli e Rabiot, in difesa Gatti, Bremer e Danilo, Alexandro nel top e Scesni tra i pali. La formazione mi sembra pressoché fatta, sono più curioso di vedere quella di Igor Tudelo, su esordio sulla panchina dei Bianco Celessi, perché si vocifera di un Felipe Anderson in questa sorta di 3-4-2-1 a tutta fascia, quindi con Zaccagni e Luisa Alberto, tre quartisti atipici dietro Ciro Immobile, Felipe Anderson sappiamo anche come resti un obiettivo della Juve, ne parliamo domani mattina, perché voglio di vostro punto di vista, se pensate che possa essere un rinforzo utile o meno, e avremo comunque modo adesso di vederlo all'opera in tre partite contro la Juve, questa di campionato più le due di Coppa Italia, che sono anche ravvicinate, e ci potremmo fare un'idea concreta anche sul brasiliano, che per me resta a zero un innesto che avrebbe il suo perché, ovviamente determinate cifre. Ma rimaniamo poi anche su questa conferenza stampa, perché ho letto anche di domande sul futuro, e Allegro ha risposto che in questo momento è importante rimanere focalizzati sul finale di stagione, e anche detto stiamo lavorando e stanno programmando il futuro, per stanno programmando il futuro, un riferimento alla società, ma io ve l'ho già detto subito post parole di Scanavino, in questo momento bisogna dire queste cose, bisogna cercare di tenere unito il gruppo, per fare in modo che si arrivi il prima possibile all'obiettivo Champions. Poi è normale che la società debba aver già sviluppato i suoi piani per la prossima stagione, che restino nella segretezza, ma sotto i riflettori, quando i tesserati Juve vengono intervistati, secondo me devono dire queste cose. Lo so che annoiano i tifosi perché magari vorrebbero sentire qualcosa di diverso, ma non si può dire qualcosa di diverso se si vuole centrare l'obiettivo e non mandare in malora una stagione che fino a otto partite fa era totalmente in linea con l'obiettivo, lo è anche ora perché comunque la Juventus è terza in classifica, e oggi come oggi si sarebbe qualificata alla prossima, nonché nuova. Champions League, però, io credo che queste settimane di pausa possano aver fatto bene alla Juve, perché se si fosse giocato subito con la Lazio dopo il Genova, avrei dato pochissime speranze ai bianconeri di portarla a casa, non che sia particolarmente fiducioso per la gara di domani, ma perché credo che se vince una partita nelle ultime otto non lo può essere di default. Però si può auspicare che questi treci calciatori che sono andati in nazionale possano essersi ricaricati a punto di vista mentale, uscendo un po' da un clima tossico per poi dare il loro meglio in questo rush finale. Ovvio che come banco di prova c'è subito una squadra complicata, paradossalmente mi sarei sentito più tranquillo ad affrontare Maurizio Sarri, che stivo molto ed è uno che ha vinto la Juve, mi risulta, perché poi si tende a dimenticare questo aspetto. Però con Sarri spesso e volentieri Allegri è riuscito a trovare le chiavi di lettura vincenti. Tudor era un tecnico differente in termini di filosofia, uno che ti viene a prendere uomo a uomo, proviene a un percorso molto bello tra Verona e Marsiglia, quindi come ha detto lo stesso Allegri la Lazio sarà diversa rispetto a quella di Sarri e hanno delle individualità importanti, anche se io credo che conoscendo anche un po' lo staff di Igor questa gara sia stata preparata sugli alti ritmi, sull'atletismo, sull'aggressione, sulla voglia della riconquista della palla. Sto studiando i dati perché non vi nego che mi sto appassionando molto la match analyst e mi sono andato a vedere i dati delle squadre di Igor Tudor nella riconquista del possesso. Uno dei migliori al Verona, per certi versi il migliore in quella classifica, a livello di Serie A, di statistiche, il migliore anche a Marsiglia. Cosa significa? Che Tudor fa della riconquista della palla il suo credo, cioè quei quattro secondi, fare in modo che subito si possa riavere il pallino del gioco in mano e in questo sappiamo come la Juventus con gli alti ritmi vada molto, spesso e volentieri, in difficoltà. La chiusura di Allegri è vogliamo ottenere il massimo, cercare di fare i più punti possibili per invertire anche il genere di ritorno, bisogna essere realisti, prenderne atto, ci sono 27 punti a disposizione e dobbiamo farne il più possibile. E così, d'altra parte, dietro spingono e io continuo a pensare che il Bologna nelle prossime tre possa fare nove punti perché affronta squadre la Saernitana, oggi ho letto un'intervista del presidente Ieroglien, ormai giustamente rassegnato alla retrocessione perché la Saernitana credo che non si possa più salvare nemmeno con un miracolo e poi credo che il Bologna affronterà il Frosinone e il Monza. E quindi, se la proiezione è nove punti, tocca darsi una sveglia per non ritrovarsi al quarto posto perché ad oggi c'è anche questo pericolo. Quindi, il quadro mi sembra che sia piuttosto chiaro, vedremo cosa succederà domani, poi analizzeremo nelle prossime ore la propria formazione, ma come vi ho detto non mi aspetto sorprese nella maniera più assoluta, soprattutto post-sosta, quando non hai avuto la possibilità di allenarti come devi, se non per un paio di sedute, che sono anche magari discarico per i calciatori che arrivano da molto lontano. Speriamo, speriamo in bene, perché c'è bisogno di una svolta, ma anche a livello di ambiente, perché se domani dovesse arrivare l'ennesimo risultato negativo, poi è vero che hai subito dietro la partita di Coppa Italia, però ci sta, credo che il tifoso di Juventino si meriti anche un successo, ecco. Due su nove non sarebbe male.